la prossima è la terza batteria Francesco Pozzo Buonuno, Giacomo Salvadego alla due, Andrea Lanzarini in tre, Riccardo Pandin in quattro, Andrea Pestrini in cinque, Flavio Rascano alla sei, Emanuele Fiorese in sette, Davide Pezzotti in ottava corsia, in acqua gli atleti della seconda con Massimo Chiarioni alla quattro, plurimedagliato e campione giovanile nello stile libero veloce, a toccare davanti però è Giovanni Gallina a sfruttare l'anno in più di esperienza, ventiquattro e trentatré per lui su Chiarioni ventiquattro cinquantasei